A Villa Marina regna il silenzio. Quello che in inverno colpisce tutto Viale Trieste, ma anche quello che in tutte le stagioni si abbatte sulla struttura d'epoca fascista da circa una trentina d'anni. Teloni stracciati e impalcature arrugginite. Uno degli scenari più suggestivi di Pesaro, quello del lungomare, rovinato da un edificio spettrale senza anima. Quell'anima che per decenni popolava quei quattro casermoni, quando le colonie di allora erano un punto d'attrazione per le famiglie che andavano in vacanza a Pesaro, ma dalla sua chiusura il cancello serrato non è stato più riaperto. L'Inps e il Fondo Postelegrafonici, con proprietari dell'immobile, dopo alcune aste con esito negativo, hanno presentato un progetto di recupero basato sulla creazione di appartamenti per anziani agiati, supportato da una serie di servizi come ristorante, assistenza e piscina. Un riutilizzo della struttura con finalità sociali, per un investimento complessivo di 16-17 milioni di euro, dove ad essere recuperato non sarà solo il mega edificio della colonia, ma anche l'area sportiva adiacente. Parte di quest'ultima è stata acquistata circa due anni fa dal comune di Pesaro per 1.300.000 euro, realizzando a lato monte di Viale Trieste un parcheggio gratuito per la zona mare e porto. Un'area che si sta lentamente spogliando dal deterioramento che per anni l'ha vestita, anche di fronte al recente recupero di Pesaro Studi, sempre di proprietà dell'Inps, che dallo scorso settembre ha riaperto i cancelli agli studenti della Ligieri e ai corsi universitari di Urbino e Ancona. Progetti e strutture che però vivono sotto l'ombra dell'inquietante e pericolante complesso di Villa Marina, che in questi anni però non si è risparmiata a ricevere ordinaria manutenzione. Tra la messa in sicurezza, ponteggi e teloni da sostituire ogni fine inverno, i costi sono ammontati a più di 200.000 euro. I tempi per un quanto mai necessario recupero ancora non si conoscono, mentre si conosce invece il periodo in cui Pesaro sarà capitale italiana della cultura. E se i prolungati rinvisto e la questione Villa Marina continueranno, non lasceranno un immacolato ricordo a chi per quell'appuntamento visiterà la città.